Amici di Corse di MotoTV, nel mondo della salita ci sono in pista tanti gioielli, uno di questi lo porti in gara, Lucio Lauretti. Ciao Lucio! Ciao caro! Allora, dalla Livrea l'avete già riconosciuta, stiamo parlando dell'indimenticato e indimenticabile Fausto Grisini, ma Lucio, illustraci tu la storia di questa incredibile onda. Ma guarda, c'è poco da dire perché è una moto che diciamo parla la sua storia, già, quindi ho poco da aggiungere. L'unica cosa che posso dire è che sono fortunato di poterla portare qui al CVS e farla vedere anche agli altri. Ci vorrebbe il pilota migliore, forse se ci fosse stato il grandissimo Fausto sarebbe andato molto meglio, però fiero di avere una moto vera e bella. Allora, questa è un originale? Sì, sì, un originale, diciamo adattato un po' ai tempi moderni, su alcune cosette, però è lei. L'anno della moto? Ma l'anno della moto è tra 90 e 91 per la precisione, perché poi c'erano vari upgrade e cose varie, però questa, diciamo, ha l'ultimo upgrade con il cilindro, con la valvola, che non c'era. Quindi, per identificare il periodo quando Fausto Gresini lottava con Loris Capirossi per la conquista del Mondiale, è andato poi a Capirossi, lo ricordate per due anni di seguito. Senti, la domanda che viene sempre, spesso spontanea, quando si parla sia di auto che moto d'epoca portati in gara, non c'è un po' di peso psicologico, no? Pensando, oddio, adesso scivolo, la rovino. Guarda, è vero, è verissima questa cosa, però a volte dico, tenerla a casa è un po' brutto, però a venire qua e scivolarci è ancora peggio. Infatti, ieri ho avuto delle problematiche tecniche con la pressione delle gomme e la moto mi è andata via, ma è stato un errore mio. e ricalibrandola e standoci attento, insomma, bene o male le cose vanno bene, insomma. E senti una cosa, nell'amaulgurato caso che si dovesse scivolare o tirarla nel muro, come si dice in gergo, pezzi di ricambio? Ecco, il problema è che i pezzi di ricambio li possiamo trovare, ma compatibili, che ne so, la cadenatura è in carbonio e la troviamo in vetroresina, e quindi già questa cosa è differente. Il motore qualcosa si trova, su questo punto di vista si trova. I cerchi in magnesio... È un po' difficile, guarda, i marchesini in magnesio è difficile. State attenti ai cerchi. È un due tempi, chiaramente, quindi va fatta a carburazione a seconda anche del meteo. Cioè, io so che quando ci sono giornate particolarmente umide va ritoccato, poi se diventa più secco il clima... Insomma, è un bel lavoro di manutenzione per renderla efficiente al massimo? Sì, effettivamente è un po' difficile da carburare e mettere a punto. Proprio quest'anno abbiamo fatto una modifica al contrario. Nel senso, il mio meccanico, che vorrei salutare, che è Lauro Caforio, che è bravissimo, io mi fido di lui ciecamente, ha levato i cavalli, ha tolto i cavalli, invece di aggiungerli ha tolti. Perché chiaramente questa è una moto da pista e non da salita, quindi è più difficile, più scorburica, diciamo così. Sì, quindi ha meno cavalli del normale. Tanto gira, altissima? Beh sì, inizia a gire a 9.000. Da 9.000 all'arco di rizzo è 3.000 giri, 4.000 giri, non di più. Sotto c'è poco. Eh, sotto sì, devo dire, ovviamente sì. Sui tornanti, specialmente la moto, si sente che, diciamo, si inceppa un pochetto. Due curiosità finali, ovviamente sono domande che si faranno agli appassionati vedendo questo video. Dove l'hai trovata e più o meno dacci una finestra di prezzi, non vogliamo sapere al centesimo, però più o meno di quanto si parla per mettersi in garage o in casa un gioiello di questo genere? Allora, l'ho trovata a Napoli da un collezionista che ce l'aveva in casa. Poi ha besticciato un po' con la moglie che non la voleva più in salotto e quindi l'ha venduta a malincuore. Non faccio nomi per correttezza, insomma. E dal punto di vista economico costa, costa molto. Vi posso dire solamente che ha delle forcelle ufficiali con WP, mosteli in titanio e valgono solo le forcelle 4.500. Non vado oltre perché sennò potrei perdere io la moglie. Costa pochissimo questa moto. E quindi, no, anzi, devo ringraziare la mia moglie perché mi sta molto appresso da questo punto di vista, anzi, è appassionata anche lei, per cui... Ti faccio un ultimo appunto, ma questo è il goliardico, caro Lucio. Ti ho visto quest'anno sfoggiare un casco nuovo, questo lo vedete, è il dovizioso replica. Ma come su una moto Gresini, almeno un AGV di quel tempo, di Gresino di Capirossi, ci starebbe bene. Cercalo sul mercato, dai. Allora, guarda, un casco dell'Aboca ce l'ho, però a casa. Anche perché comunque sia, quest'anno poi, tra l'altro, la federazione ha introdotto nuove protezioni giuste che sono quelle praticamente dell'airbag e quindi ho rinnovato tutta la mia misa prendendo anche un casco molto più buono, molto più leggero e molto più sicuro. Allora, grazie Lucio per portare qui al Virus Power CWS questo gioiello, per condividerlo con tutti gli appassionati. Bravo! Grazie, grazie a te, grazie a tutti, grazie a CWS che ci dà l'opportunità di fare questa cosa.